e tutti i giorni tu sei lì o che tu fai? aspetta il postino il postino? ma ha detto Renzi me lo porta lui il 7.30 allora tu posta sereno non dare retta al che dice Renzino il 7.30 un lo porta il postino e te l'ho detto mille volte e tu devi andare al caffè della CGL CAF CGL in due parole tutte le soluzioni